Partnership e civiltà Forse non riusciremo mai, dopo tanti millenni di condizionamento, a comprendere appieno come potevano sesso e spiritualità essere un tempo fusi e ancor meno come una spiritualità erotica potesse manifestarsi nei riti religiosi e nella vita quotidiana. Ma possiamo esaminare con grande apertura mentale i documenti di cui disponiamo. Per quanto mi riguarda ho ricavato alcune delle impressioni più vivide su come il sesso potesse essere insieme piacevole gaio, oltre che sacramentale e spirituale, dallo studio di quella grande civiltà che al volgere del XX secolo fu riportata alla luce nell'isola di Creta. Seguendo l'archeologo britannico Sir Arthur Evans, si è soliti chiamare minoica questa civiltà, sebbene il re Minosse appartenesse alla cultura micenea che si sviluppò dopo il 1450 a.C., quando gli Achei indoeuropei ebbero la meglio e assorbirono molti tratti della precedente civiltà dell'isola. Ma visto che questa importante cultura incentrata sul culto della dea viene ancora chiamata minoica per evitare confusioni, finché non si accrediterà un termine nuovo, userò anch'io questo appellativo. La società minoica, socialmente complessa e tecnologicamente avanzata, per vari aspetti fondamentali differiva grandemente da altre grandi civiltà dell'epoca. Per cominciare, sembra aver regnato una coesistenza nell'insieme pacifica tra le varie città-stato dell'isola. Come lo storico britannico Villetz osserva, ciò è in forte contrasto con le rivalità micidiali che opposero i successivi stati greci in qualsiasi area simile. Egli scrive che sebbene armi e armature conobbero un precoce sviluppo e le spade cretesi fossero le migliori dell'Egeo, esistono poche prove in Creta del loro uso in combattimenti umani, in contrasto per esempio con le tombe vicenee. Osserva inoltre che l'insediamento cooperativo minoico, la lunga pratica della sepoltura comune e lo sviluppo apparentemente regolare e uniforme delle varie zone paladine, si combinavano a una generale, se non totale, assenza di fortificazioni, a indicare un grado quanto meno alto di reciproca tolleranza. E le case di campagna sparpagliate qua e là e le città in difesa del successivo periodo palatino parlano chiaramente di pace all'interno e fiducia all'esterno. Esistono studiosi che tuttora cercano di negare l'evidenza o di ignorarla, che la società minoica era non soltanto più pacifica ma anche più egalitaria di altre antiche cività ben più enfatizzate. Peraltro, dati in grande quantità indicano che la vita nelle città minoiche era molto diversa da quella che si svolgeva nella maggior parte delle altre civiltà coeve. Né piramidi né zigurat dominano le assai più povere dimore della gente comune. Fatto ancora più rivelatore, le città minoiche mostrano quel che gli studiosi descrivono come uno standard di vita generalmente alto, in assenza di quelle nette differenze tra coloro che hanno e coloro che non hanno, che abbiamo appreso ad associare alle civiltà avanzate. Non si intende ovviamente dire che la società minoica non conoscesse la gerarchia. Occorre tuttavia fare una distinzione importante. Si tratta della distinzione che ho affrontato altrove quando ho messo a punto la mia teoria della trasformazione culturale, tra due diverse forme di gerarchia. Una è la gerarchia basata sulla forza o sulla minaccia della forza, che ho chiamato gerarchia di dominazione. L'altra è una forma molto più flessibile e di gran lunga meno autoritaria, che ho chiamato gerarchia di attualizzazione, accompagnata da una maggiore complessità di funzioni e da maggiore efficienza. È questa seconda forma, la gerarchia di attualizzazione, che probabilmente descrive meglio la struttura amministrativa e religiose in antichi siti minoici come il Palazzo di Knosso, che serviva anche da centro di ridistribuzione delle risorse. Dovrei a questo punto aggiungere che gli studiosi sono sempre più concordi nel considerare improprio il nome di palazzo, usato per definire le mirabili strutture spesso labirintiche di Knosso, Zacro, Festo e di altri siti archeologici di Creta. Questi edifici costruiti in modo irregolare, con giardini, corti, teatri e una rete di strade che consente di raggiungerli dalle città e dal mare, pare siano stati una combinazione di centro religioso, amministrativo, legale, artigianale e commerciale. Vi si svolgevano importanti cerimonie religiose, come le danze dei tori, in cui, come ancora si vede nel famoso affresco del Palazzo di Knosso, fanciulle giovani contavano le une sugli altre per la propria salvezza e si aiutavano reciprocamente a saltare sulle corna di quelli che erano tori, probabilmente addomesticati ma potenzialmente ancora letali. Come dimostrano le squisite figurine della Dea dei Serpenti, rinvenute nel Palazzo di Knosso, le sacerdotesse intessevano stretti rapporti spirituali con i serpenti nelle transe statiche e in questi luoghi gli artisti creavano le mirabili figurine scolpite. Gli artigiani fabbricavano ceramiche, sigilli e altri oggetti utensili per uso domestico e per l'esportazione, mentre granaglie, olio e altri prodotti della terra venivano immagazzinati in lunghi file di orci e molto verosimilmente si riunivano le assemblee per prendere decisioni su questioni importanti quali le opere pubbliche, comprese il sistema igienico, sorprendentemente moderno, le strade pavimentate e i viadotti. Sempre più concordi sono alcuni studiosi, tra cui Helga Reusch, Emmet Bennett, Billets, Harry Van Heffernter, Helen Waterhouse, nel riconoscere che l'antica tesi di un re o di un sacerdote che da Knosso governava Creta non è avvalorata ad alcun riscontro. In realtà l'unica opera d'arte che può essere ragionevolmente interpretata come una rappresentazione di un dio sovrano è costituita dai cosiddetti affreschi processionali. Un aspetto importante di quest'opera è che la figura centrale, con le braccia elevate nel lato di benedire, non sta su un piedistallo elevato né a dimensioni maggiori delle figure che si avvicinano, portando offerte di frutta e vino, come poi saranno presentati i re divini. Ancora più importante e rivelatore è il fatto che la figura centrale dell'affresco è un personaggio femminile invece che maschile. Di conseguenza alcuni studiosi hanno scritto di una regina o di una regina sacerdotessa che rappresenta la dea ufficiante nella famosa sala del trono del palazzo di Knosso. Per certo, come sottolina Reusch, i grifoni ai delati del trono sono quasi universalmente associate alla dea. I gigli e le sulle pareti sono altrettanti simboli tipici della dea e le piccole dimensioni del trono, in realtà un sedile in pietra elegantemente inciso e non in posizione più elevata, conforto ulteriormente la conclusione che occuparlo era una donna e non un uomo. A ciò vorrei aggiungere che forse non di sala del trono si tratta, ma di una stanza, e di una stanza relativamente piccola, in cui un'alta sacerdotessa presiedeva cerimonie e o udienze su questioni illegali e di altra natura. Peraltro, come sottolinea ancora Villetz, è anche assai probabile che le gerarchie maschili siano coesistite con le sacerdotesse di palazzo, alcune incaricate forse di affari commerciali e marittimi, altre con funzioni sacerdotali. In breve, la struttura sociale della creta minoica pare conformarsi più al modello della partnership che a quello della dominanza, e un aspetto importante della partnership sembra essere stato costituito da rapporti sessuali liberi e alla pari tra donne e uomini. Sesso, spiritualità e struttura sociale Come i predecessori del Neolitico, i minoici dell'età del bronzo veneravano il principio creativo femminile. Pare abbiano adorato una dea che presiedeva alla nascita, al sesso, alla morte e alla rigenerazione. Come osservava Giacchetta Hawks, storico delle culture, questa consacrazione a una dea comportava anche una glorificazione del significato del sesso e scrive Fertilità e abbondanza erano il fine e il desiderio, il sesso era lo strumento e per questo motivo i suoi simboli si ritrovavano ovunque. Così, la colomba, scrive Hawks, era un importante simbolo minoico perché fu sempre considerata il più amorevole degli uccelli. Forse anche la famosa ascia doppia era un simbolo sessuale. Come scrive Hawks, la sua forma, il dopo triangolo, era ampiamente usata come segno per la donna e l'asta inserita nel foro centrale evocava un'efficace immagine sessuale. A Creta, l'ascia doppia a forma di farfalla era un importante simbolo della dea. È però significativo il fatto che spesso la si ritrova piazzata tra le altrettanto importanti corna minoiche della consacrazione, le gigantesche corna di toro che, come nel Neolitico, erano simboli della potenza virile. Per la verità, come scrive Hawks, nell'arte minoica e nelle iscrizioni più tardi si trovano riscontri del fatto che la hierogamia, il matrimonio sacro tra la dea e il dio toro, veniva celebrata ogni primavera, come parte di una festa che a suo dire può essere stata occasione per riti umani di copulazione. Seguendo un orientamento simile, uno studioso norvegese Kiel Horturn ha di recente annunciato di avere decifrato i geroglifici del famoso disco di Festo. Riferisce di avervi trovato un canto erotico, un rituale espresso in trenta versi poetici. A detta di Horturn, questo antico inno trova un parallelo in altre antiche opere letterarie, quali il cantico dei cantici e gli nidi in Anna. Comunque, che i riti erotici rientrassero o meno nel rituale minoico, se osserviamo attentamente i ritratti minoici di uomini e donne, appare chiaro che il sesso era una parte assai importante dell'esistenza. Scrive Hawks, nell'abbigliamento degli uomini, speciale rilievo era dato alla vita sottile, messa in evidenza da una massiccia cintura metallica e al perizoma che copriva il pene, una combinazione provocante, almeno quanto il vedo non vedo delle donne. In talune occasioni, e in particolare quando praticavano degli sport, continua, gli uomini lo indossavano insieme con un capo molto più corto, simile a un grembiule, che lasciava vedere il lato delle cosce su fino alla cintura. Inoltre, mettevano il risalto, il busto e gli arti nudi con intricate collane d'oro, braccialetti e cavigliere. Ma sono le immagini a petto nudo delle donne a rivelarci quelli che erano gli atteggiamenti nei confronti del sesso. Come osserva Hawks, il modo in cui gli uomini e le donne cretesi si abbigliavano è particolarmente significativo perché suggerisce un aperto incoraggiamento della sessualità, evidentemente appropriato allo status elevato delle donne nella società minoica, al loro brio, disinibito in pubblico e alla libertà con cui si mescolavano gli uomini. In abiti che paiono creati da couturier francesi, con acconciature elaborate e sofisticate e soprattutto con la loro postura sicura, dignitosa e nel contempo viva e sensuale, le donne di questi dipinti sono come le immagini dei giovani agili e flessuosi nelle brevi tuniche mollemente drappeggiate, testimonianza di un atteggiamento libero e gioioso verso il sesso e di uno status elevato e libero per le donne. E siccome alcune di esse erano sacerdotesse, queste immagini molto ci dicono dell'atteggiamento della società minoica nei confronti della spiritualità. Hawks osserva anche, sebbene la moda prevedesse una netta differenza nell'abbigliamento dei due sessi, pare esserci stata una tendenza al travestitismo rituale. Infatti, quando prendevano parte ai sacri giochi taurini, le donne indossavano il gonellino e il perizoma. Similmente, durante i riti funebri, a uomini e donne capitava di indossare la stessa gonna in pelle di pecora. Inoltre, come riferisce l'autrice, quando celebravano una forma di comunione, cui prendevano parte a entrambi i sessi, gli uomini indossavano abiti lunghi a balze. È affascinante, e non credo casuale, vedere come in modi vari alcune delle mode minoiche, e in particolare l'arte minoica, adombrino molto di quanto sporadicamente è emerso nella moderna cultura occidentale. La sensualità dell'abbigliamento, le lunghe capigliature degli uomini e la tendenza in tali un'occasione a indossare capi di abbigliamento unisex sicuramente adombra alcune mode occidentali degli anni 60, quando donne e uomini sfidarono apertamente i restrittivi stereotipi di genere del predominio maschile e della subordinazione femminile. Fatto ancora più affascinante, il rivelatore delle differenze nella sessualità e nella spiritualità caratteristiche di società orientate più sul modello della partnership che della dominanza, è che sotto vari aspetti significativi i patti sociali adombrano altri elementi dell'attuale movimento verso la partnership. La civiltà minoica contraddice, decisamente, l'antico mito secondo cui le società tecnologicamente e artisticamente avanzate, centralizzate, affluenti e dotate di scrittura, inevitabilmente si orientano verso il modello della dominanza. Come già notato, lo standard di vita dei minoici era in genere elevato e non vi sono tracce di una classe dominante oppressiva, sebbene ricorressero alle armi per la difesa della flotta, specie dagli attacchi dei pirati in mar aperto. Il principale ruolo economico era svolto dal commercio piuttosto che dalle guerre di conquista. In contrasto con le sue antiche controparti orientate sul modello della dominanza, nella società minoica le donne conservavano i loro ruoli importanti e la preminenza adatta alle opere pubbliche e alla responsabilità di governo per garantire il benessere della popolazione, è più in linea con un orientamento alla partnership che alla dominanza. Inoltre, rifiorì un'arte così vitale e ricca a celebrazione delle bellezze della natura che nulla di lontanamente simile ricompare in Occidente, e secondo me ancora una volta non a caso fino alla seconda metà del XIX secolo. Dico che non è casuale perché l'Ottocento fu un secolo che scosse violentamente molte delle certezze dell'Occidente. Come approfondiremo in seguito, quel secolo vide la comparsa di alcune delle più importanti ideologie progressiste, il movimento contro la schiavitù, il movimento femminista, il socialismo e il pacifismo. Vide anche grandi riforme sociali e legislative, e molte di queste riforme, come il trattamento più umano riservato ai malati di mente, la pianificazione familiare, l'assistenza sociale intesa come servizio per mettere fine a modelli di miseria e sorpruso, erano dovute all'influenza delle donne, che continuavano ad abbattere le varie barriere che impedivano loro di partecipare alla vita pubblica. In breve, pur conservando elementi del modello della dominanza, la maggior libertà e la gioia che troviamo nell'arte di Renoir, Monet, Van Gogh, Cassa e Matisse, e l'estrema attenzione per le bellezze della natura, erano collegate alle tendenze sociali ottocentesche verso una società della partnership, piuttosto che a una della dominanza. Allo stesso modo, invece di essere semplicemente un'anomalia, una civiltà assolutamente unica, che come hanno intimato alcuni studiosi sfida qualsiasi spiegazione, la società minoica pare essere stata l'ultima di una lunga tradizione culturale, certo non ideale, né completamente libera dalla violenza, ma caratterizzata da organizzazioni più gilaniche, orientate alla partnership. Sicché non è casuale, se nell'arte minoica troviamo una vivida rappresentazione di un modo di vita sensuale, erotico, orientato verso il piacere, inestricabilmente è intrecciato con l'insacro. In effetti, molto di quanto sta ora accadendo per avere radici nel modello di partnership preistorico e su questo torneremo nella parte seconda. Per ora ci soffermeremo un po' più a lungo sul nostro passato, poiché nel prossimo capitolo vedremo come tradizioni sessuali e sociali arcaiche furono interrotte durante la nostra preistoria, in un'epoca di grandi sommovimenti di caos, un'epoca in cui, nel linguaggio della dinamica non lineare, si produsse una miforcazione critica dei sistemi. Capitolo 5. Dall'eros al caos, sesso e violenza. Nella mitologia occidentale, Eros è l'incarnazione divina dell'amore erotico e, secondo Esiodo, una delle divinità più antiche. Omero non parla di Eros perché, come osserva la classicista Jane Helen Harrison, per il poeta l'amore appartiene ad Afrodite. Harrison allude anche a un precursore di Eros, bisessuale o androgino, imparentato con la mescolanza di immagini sessuali femminili e maschili che troviamo nell'arte neolitica e paleolitica. Ma nella Grecia classica, all'incirca due millenni e mezzo fa, Eros era diventato definitivamente maschio. Era ancora, come riporta The New Columbia Encyclopedia, la personificazione dell'amore in tutte le sue manifestazioni, compresa la passione fisica all'apice massimo. Era ancora il figlio di Afrodite, la dea greca dell'amore, una delle divinità più antiche del Panteone Olimpico. Solo che era diventato anche figlio di Ares, il dio greco della guerra. Di conseguenza, l'amore sessuale era visto dai greci come un giovane alato e armato di arco e freccia, che dispensava con non curanza i deliri e le agonie dell'amore. In epoca romana, sotto il nome di Cupido o Amore, Eros subì un'ulteriore evoluzione, trasformandosi in un putto nudo e alato. Era ancora figlio e compagno di Venere, la dea romana dell'amore, e come divinità conservava ancora quella che definiremo oggi una dimensione spirituale, poiché amore e sesso continuano a rimanere attributi del divino. Tuttavia, era diventato non soltanto capriccioso, ma anche talvolta decisamente malizioso, e aveva anche acquisito un fratello, Anteros, che lo accompagnava come vendicatore dell'amore non corrisposto avversario dell'amore. Come si determinarono tutti questi cambiamenti? Che cosa accadde alla dea concepita come fonte divina della vita e del piacere? Che ne fu di tutte le immagini della creatività sessuale femminile? Quando cominciamo a considerare di tutto naturale che un'arma suscitasse l'amore erotico? E come abbiamo fatto a passare dal matrimonio sacro, tra la grande dea e il suo compagno, a un'istituzione del matrimonio in cui sia tra gli ebrei, sia tra gli antichi greci, i popoli d'occidente che ebbero la massima influenza in epoca storica, la sessualità della donna diventa proprietà del maschio, sotto il controllo di divinità maschile degli uomini? Questi interrogativi ci riportano una volta ancora a uno dei temi principali di questo libro. Né il sesso né la spiritualità possono essere compresi se isolati dal contesto sociale e culturale. Nel tentativo di comprendere le immagini sacre della donna e della sessualità nell'arte preistorica, nel precedente capitolo abbiamo esaminato le società che queste immagini produssero. Per comprendere come mai in Grecia, in epoca classica, sesso e amore fossero incarnati in una divinità maschile armata, ora esamineremo brevemente le prove fornite dall'archeologia e dalla mitologia del mutamento radicale verificatosi nell'evoluzione culturale dell'occidente. Poiché molte di queste prove sono esaminate nel calice e la spada, qui mi soffermerò prevalentemente sui nuovi dati che ho raccolto e concentrerò la mia attenzione in modo specifico sulla sessualità e la spiritualità e sulla radicale modificazione provocata da una serie di cataclismi verificatesi nella nostra preistoria. Le prove contraddittorie Mi sono talvolta domandata, leggendo i miti degli antichi greci, se i mitografi del tempo erano dotati di un senso di tragicomica ironia o se, come alcuni artisti contemporanei, semplicemente raccontavano le cose come stavano, senza soffermarsi a considerare quanto davvero dicevano la storia o l'immagine che avevano creato. Per esempio, la storia del ratto di Europa per opera di Zeus è una specie di commento politico, come i moderni fumetti che smascherano gli uomini e tuttora associano il potere al predominio violento. Forse, nella Grecia classica, era relativamente poco rischioso dedicarsi alla satira politica, come deduciamo ad alcune commedie di Aristofane, che in Isistrata osò prendersi gioco della pratica allora consueta della guerra. A giudicare dalle testimonianze archeologiche sarebbe stato del tutto infruttuoso e probabilmente fatale mettere in ridicolo gli uomini che nella nostra preistoria modificarono radicalmente il corso della civiltà occidentale. Per loro il dominio violento, che fosse dell'uomo sulla donna, dell'uomo sull'uomo, di una tribù su un'altra tribù o di una nazione su un'altra nazione, non era una deplorevole debolezza umana ma un modo istituzionalizzato, glorificato e perfino divinizzato di vivere e morire. Nel tentativo di ricostruire, come questo stile di vita della dominanza si attestò nei miti e nella realtà dell'Occidente, sono state proposte alcune teorie. Se per molti aspetti importanti differiscono tra loro, tutte cercano di spiegare, spesso anche di giustificare, un passaggio da quelle che fino ai tempi recenti sono state chiamate culture prepatriarcali, matriarcali o semplicemente primitive, arcaiche. Ha un modo di strutturare la società umana in cui, a cominciare dal predominio della metà maschile dell'umanità sulla metà femminile dell'umanità, il principio primario dell'organizzazione sociale è gerarchico, sostenuto dalla paura e o dalla forza. Secondo una spiegazione a un tempo ben accetta, quando gli uomini scoprirono di avere un ruolo nella procreazione, ovvero quando scoprirono il collegamento esistente tra amplesso, gravidanza e nascita, e di essere quindi anch'essi genitori, allora con la violenza soggiogarono le donne. Per giunta, dopo la scoperta della paternità, gli uomini assunsero il potere temporale e spirituale, che da quel punto non associarono più, per riprendere le immagini del mio precedente libro, al potere del calice di dare la vita, ma al potere della spada di dare la morte. Dietro a questa teoria si annida un certo numero di convinzioni. La prima è che gli uomini sono inevitabilmente aggressivi, brutali e determinati a conquistare e a schiavizzare tutti coloro che sono fisicamente più deboli, se non sono trattenuti dalla forza o dalla paura, in tal caso presumibilmente la paura che provano gli uomini di fronte al magico potere procreatore delle donne. Un'altra di quelle convinzioni è invece di portare a un sentimento di maggiore partnership ed amore tra donne e uomini. La scoperta della paternità avrebbe inevitabilmente condotto all'asservimento sessuale delle donne da parte degli uomini, probabilmente, come amano concludere i sociobiologi, per proteggere l'investimento parentale degli uomini. Perché questa teoria funzioni, dobbiamo accettare la tesi di un'umanità inevitabilmente brutale e difettosa, quantomeno la metà maschile dell'umanità. Dobbiamo inoltre ignorare i molti esempi forniti dall'arte preistorica, in cui le immagini sessuali maschili femminili sono chiaramente connesse. Per giunta, dobbiamo ignorare le ampie testimonianze lasciate da società agricole, che veneravano la Dea, società in cui, molto prima del passaggio a un ordine in cui il maschio predomina, si allevavano maiali, capre, pecore e bovini per provvedere al sostentamento. Ed era pertanto necessariamente noto che maschi e femmine condividono un ruolo importante nella procreazione. Attualmente, la scoperta della paternità usata come spiegazione del predominio maschile è quasi universalmente screditata dagli studiosi. Alcuni continuano tuttavia ad affermare che il predominio maschile, la guerra, l'autoritarismo e perfino la schiavitù sono l'inevitabile corollario di una maggiore complessità culturale e tecnologica, anzi, in altri termini, è questo il prezzo che dobbiamo pagare per il progresso. Questa tesi, che spiega il passaggio alla configurazione sociale caratteristica di una società sul modello della dominanza, e ancora più specificatamente androcratica o a predominio maschile, concepita semplicemente come una fase superiore dell'evoluzione sociale e culturale, venne in realtà da una fonte alquanto improbabile. Risale, infatti, alla cosiddetta scuola matriarcale delle origini sociali e culturali, che nel XIX e all'inizio del XX secolo suscitò infuocate di atribi tra gli studiosi. Se oggi vengono ancora menzionate opere quali il materaccato di Bakhofen, League of the Hodenosaunni, or Irochius di Louis Morgan e The Mothers di Robert Brieffall, al massimo sono ricordate in quanto già nel XIX secolo sottolineavano come i miti, insieme con i ritrovamenti archeologici, indicavano l'esistenza di un tempo in cui la sessualità femminile non era sotto il controllo degli uomini, in cui la discendenza era matrilineare e la creazione del nostro mondo veniva attribuita a una divinità femminile non maschile, una tesi che allora come adesso era un insulto per molti membri di circoli scientifici accreditati. Peraltro, nel contempo, molti di queste opere asserivano anche che sebbene il patriarcato non fosse sempre la norma naturale e umana stabilita da Dio, lo sviluppo di una civiltà superiore richiedeva il passaggio a una forma di società dominata dal maschio. Per ironia della sorte, sebbene ciò non sorprende affatto è proprio questa l'argomentazione e non i dati su una più antica cultura incentrata sulla madre, che finì per essere incorporata in quella che ci viene insegnata come conoscenza da un establishment intellettuale che tuttora vacilla tra prove contraddittorie dell'inevitabilità di un'organizzazione sociale della dominanza. È questa, in sostanza, la tesi proposta dalle teorie sociologiche e strutturaliste, tuttora insegnate in molte università occidentali, secondo le quali i sistemi sociali sempre più complessi e avanzati, strutturalmente richiedono gerarchie di dominio. È anche la tesi socialista, generalmente condivisa, che per generazioni fu insegnata come corretta dottrina comunista. Per esempio, lo scrittore socialista Friedrich Eagles, cofondatore con Karl Marx del socialismo scientifico, scrive in Origini della famiglia della proprietà privata e dello Stato, pubblicato poco dopo la morte di Marx. La prima opposizione di classe apparsa nella storia coincide con lo sviluppo dell'antagonismo tra uomo e donna nel matrimonio monogamo e la prima oppressione di classe coincide con quella del sesso femminile da parte del maschio. Nel contempo, tuttavia, persino Ingels, che insieme con Marx aveva coraggiosamente sfidato parecchie forme di oppressione, ancora acclama quello che definisce peraltro un matrimonio monogamo brutalmente ingiusto, unilaterale, imposto dal maschio e monogamo in verità per le donne soltanto, come un grande passo storico in avanti, perché nella sua visione della storia in fasi evolutive è associato al passaggio dalla barbarie alla civiltà. Persino alcune studiose femministe si sono lasciate prendere dalla trappola di tali spiegazioni contraddittorie. Uno degli esempi più illustri è la filosofa francese Simone de Beauvoir. In Il secondo sesso, un'opera giustamente riconosciuta come pietra miliare in quanto fa luce sull'ingiustizia della posizione della donna, Simone de Beauvoir costantemente vacilla da un campo all'altro. In tal unipasse asserisce che la donna è sempre stata soggetta all'uomo, mentre in altri afferma che il grande passaggio ideologico e sociale da quello che chiama matriarcato al patriarcato fu in effetti un evento storico, indispensabile al progresso della civiltà. Inoltre, conformemente ai pregiudizi dei doti dei tempi, siamo negli anni quaranta, è convinta della superiorità della discendenza patrilineare e si mostra sprezzante nei confronti di quella matrilineare e dei cosiddetti comportamenti e valori femminili, spingendosi al punto da sostenere che la svalutazione della donna rappresenta una fase necessaria nella storia dell'umanità. Mi sono soffermata su alcune delle più pesanti contraddizioni interne che si trovano nell'opera ormai classica di Simone de Beauvoir per sottolineare che non sono stati solamente gli uomini a interiorizzare tani pregiudizi. Chiaramente, gli studiosi, sia di sesso maschile sia di sesso femminile, hanno imparato ad accettare il concetto che una società della dominanza, la configurazione del predominio maschile, della guerra e di un forte governo maschile in famiglia e nello Stato, è in qualche modo un ordine superiore, il segno della civiltà. Ovviamente, questo stesso concetto ha colorato anche l'interpretazione delle testimonianze archeologiche, per cui a produrre davvero il passaggio preistorico a un'organizzazione sociale della dominanza non fu un inevitabile avanzamento, ma piuttosto ondate successive di orde dedicate alla pastorizia provenienti dagli aridi margini del nostro pianeta.